Dopo una stagione invernale e saldi fra alti e bassi, sabato prossimo, primo luglio, arrivano anche in Toscana gli sconti per l'abbigliamento estivo. La stima di Confcommercio del presidente provinciale aretino di Federmoda, Paolo Mantovani, è quella di una spesa di 115 euro a persona in tutto l'Aretino. Superiore al resto della regione, ma di meno 5 euro rispetto al medesimo periodo del 2016. I numeri dicono di circa 700 negozi pronti e saldi, con un ribasso medio del 30% al termine però di un periodo che ha visto già una buona risposta da parte della clientela. Complici la Pasqua Alta e la bella stagione già arrivata da tempo, scrive ancora Mantovani, che sottolinea come appunto se non altro il sole delle ultime settimane abbia premiato almeno parzialmente il settore terziario. Di certo c'è che il trend dei saldi estivi lo si capirà già dalle prime due settimane, poi anche l'entusiasmo dovrebbe affievolirsi. C'è però tempo per gli acquisti scontati fino al 31 agosto prossimo, occasione quindi per due mesi sia per capire di necessità di utilizzo, ma anche per griff, che a prezzo pieno sarebbero oltre la possibilità degli acquirenti.